6 storie divertenti che mostrano l'umorismo senza tempo degli anziani Un nonno compra un computer e dice al nipote, sai, a mia età imparare tutte queste nuove tecnologie non è facile. Il nipote lo rassicura, non ti preoccupare, nonno. Se hai bisogno, sono qui per aiutarti. Il giorno dopo il nonno chiama il nipote tutto eccitato, ho fatto un'intera pulizia del disco e ho guadagnato ben 150 megabyte di spazio. Il nipote, sorpreso, gli chiede, e come hai fatto? E il nonno, facile, ho cancellato tutti i messaggi che dicevano, invia a tutti i tuoi amici. Due anziane signore si incontrano. Una dice all'altra, cara, che bello scialle che hai. E l'altra risponde, grazie, era un regalo del mio defunto marito. La prima donna, un po' sorpresa, chiede, e da quanto tempo è morto tuo marito? E la seconda, con aria di staccata, ho, tra un mese saranno 10 anni. Un anziano sta parlando con il suo amico e dice, ieri sera ho avuto un vuoto di memoria così forte che non riuscivo a ricordarmi come tornare a casa. Il suo amico lo guarda preoccupato e chiede, e cosa hai fatto? E l'anziano risponde, ho aspettato che passasse la memoria del cane per seguirlo.